va in scena la finalissima del campionato di calcio a 7 over 35 twin style contro il puma team atto finale avvitabile avvitabile c'è spazio per la conclusione inevitabile si deve distendere pirola sulla conclusione del 18 twin style gambino adesso l'apertura il cross giangrande spazio per la conclusione il tiro e c'è la rete per il gol del vantaggio di twin pacchinare in mezzo si può controllare mastro giacomo spazio la conclusione la deviazione e la palla che si vila il palo allora parte il calcio di punizione deviato e la palla entra in rete per il 2 a 0 di twin la conclusione da fuori su calcio di punizione di mastro giacomo allora dagli 11 metri per la doppietta la conclusione pirola lo ipnotizza tiene in partita i suoi pirola parte viganò la conclusione di viganò si vila il palo in percussione mileo rientra a spazio per la conclusione mileo il tiro a giro e pirola si deve distendere in maniera prodigiosa mettere in rimessa laterale sulla conclusione di mileo adesso capitana gambino il pallone resta gioco al tiro la conclusione del numero 9 roveda il pallone lungo lo freddo c'è pressing su di lui abitabile controllo ottimamente il pallone la conclusione inevitabile la palla respinta lo freddo e ancora una volta è miracoloso pirola allarga per giangrandi giangrandi per chiudere giangrandi il pallonetto ed è il gol del 3 a 0 di twin che probabilmente chiude il match ora il pallone in mezzo viganò la palla fuori conversa per il gol della bandiera il gol di conversa del 3 a 1 il capitano finisce qui twin style è campione twin style vince il campionato di calcio a 7 over 35